ciao ragazzi ciao a tutti raccomendone e scusate da un bel po che non registro sono 4 o 5 giorni ma sto registrando pochissimo perché in questo periodo insomma sto prendendo un po di tempo per me visto all'altro anno visto da tanti casini che ho avuto adesso è un momento un attimo di tranquillità e quindi mi sono preso un po di tempo per me ma i video torneranno non preoccupatevi ho visto anche che è uscito il primo trailer di affrono 2017 quindi prepariamoci perché sarà veramente tanta roba però ragazzi sto video è perché voglio fare insomma un saluto insomma spendere due parole per Aiden perché un altro che se ne va mi ricordo per Bianchi fatto ormai un po di tempo fa così colgo anche l'occasione per dare un saluto anche a Scarponi che è anche lui veramente una sfortuna devastante però insomma Niki è stato insomma protagonista anche del mio canale perché lui lo sapete era il nostro Nicolino Heidi cioè era il soprannome del cume per i buon Niki che nel 2006 me lo ricordo ancora che ero a Firenze che era il periodo che stavo con la prima fidanzata importante e l'ultima gara l'ho vista proprio a Firenze e che sono rimasto così quasi scioccato nel vedere Rossi non vincere quel mondiale però vediamo questa immagine che forse è emblematica della carriera di Niki insomma vincere un mondiale incredibile cioè con il momento di massima forma di Rossi o comunque uno dei periodi migliori di Rossi nella sua diciamo picco massimo di forza e di vittorie e niente purtroppo la vita è così lo sappiamo basta vedere anche Michael Schumacher per capire che veramente Beffardo da fermo sciando sbatti la testa e va in coma e lui in bicicletta ha corso per anni e anni sfiorando muretti robe e niente in bicicletta una macchina viene addosso e tac non voglio fare retoriche robe volevo solo dargli un saluto cioè salutarlo a modo mio e niente rimane veramente scioccato quando vi ricordo ho letto la notizia sullo sport su telefonino ho appena uscito dal lavoro cazzo cioè momento video incidente però pensi sempre marì boh si può essere sviluppato una gamba o qualcosa però addirittura dopo quando ho visto il vetro della macchina ho detto ecco qua purtroppo la situazione è grave purtroppo più che grave è irreversibile quindi ecco ci tenevo a dare un saluto al grande Niki Aiden che veramente era bello da vedere sia in pista ma anche fuori insomma era comunque un bellissimo ragazzo e quindi il classico l'ho sempre visto come il motociclista per eccellenza a questo punto di vista bello come si dice ribelle e così però come possiamo vedere da questa foto anche l'atto umano era importante perché insomma per lui il mondiale era tutta la sua vita e niente insomma così sinceramente faccio fatica a trovare altre parole per quello che può valere un pensiero anche alla famiglia alla fidanzata ai genitori che soprattutto per i genitori la cosa più naturale del mondo purtroppo perdere un figlio è l'unica cosa che non ha un nome può essere orfano vedovo ma non esiste termine per definire un genitore che perde il figlio e niente un saluto a Nicolino Aidi che era il soprannome simpatico che ho dato nelle carriere di MotoGP e niente ragazzi un abbraccio a tutti tornerò presto con i video scusate ma mi sono preso un po' di tempo per me ripeto avete visto un po' anche da Instagram e da Facebook così un abbraccio a tutti voglio bene ciao ragazzi grazie a tutti